Più di 3 milioni e mezzo investiti dalla provincia negli ultimi sette anni sull'SP 333 di Uscio per adeguamenti e miglioramenti del tracciato, messa in sicurezza di scarpate e versanti, nuove barriere laterali, allargamenti, asfaltature e altri lavori, come l'ultimo in corso per il consolidamento della careggiata e realizzazione di un tratto di marciapiede ad Avenio. Però su questa strada, collegamento chiave tra Golfo Paradiso e Fontana Buona, lo sforzo della provincia rischia di essere vanificato per i forti rischi di degrado della careggiata, provocati dai continui passaggi tra i 20 e i 30 al giorno, di camion troppo pesanti, anche oltre i 300 quintali l'uno, diretti soprattutto alle discariche di materiali inerti di calcinara e colle caprile nel comune di Uscio. Il problema è serissimo, anche per la sicurezza della circolazione e dei pedoni e con tutta l'attenzione dovuta alle esigenze delle attività produttive e del lavoro, bene prezioso e purtroppo sempre più raro, deve essere risolto al più presto, limitando il peso dei mezzi circolanti, dice il commissario della provincia. Le nuove generazioni dei mezzi pesanti ormai offrono una gamma tale di veicoli che sono in condizioni di viaggiare in salita a 60-70 km orari, magari con 400 quintali di peso su. Però noi stiamo raggiungendo il limite di quello che è possibile continuare a sopportare questa situazione qua. Perché? C'è una ragione fondamentale, non possiamo andare oltre, perché ripeto, la strada presenza dei cedimenti talmente vistosi che dobbiamo provvedere in qualche maniera a risanare quei cedimenti, ma soprattutto a trovare un'intesa sui limiti di carico. Problema analogo alla provinciale 333 per la discarica di Colle Caprile, anche sulla provinciale 19 di Lumarzo per quella di Calcinara. Da tempo la provincia lavora per un provvedimento condiviso con i sei comuni di Recco, Avegno, Uscio, Lumarzo, Tribogna e Moconesi per vietare il transito sulle due strade e i mezzi oltre le 26 tonnellate a pieno carico. Il nodo però non si è ancora sciolto, perché qualche comune di Cefossati, dopo aver invocato provvedimenti, ha cambiato idea. Abbiamo ricercato il consenso, ripeto, di tutti gli enti interessati. A me in primo momento c'era disponibilità da parte anche dei sindaci, principalmente del sindaco di Uscio, che dichiarò che se non provvedeva alla provincia avrebbe provveduto lui. Noi cerchiamo questa intesa ormai da lungo tempo. Quei cinque comuni coinvolti, perché poi c'è anche la provincia alle 19 di Lumarzo, che ha le stesse caratteristiche. Salvaguardare la struttura della strada e la sicurezza resta obiettivo anche del sindaco di Avegno, che di fronte all'impasto del lavoro congiunto provincia comuni fa una sua proposta. Sicuramente il disagio esiste, il limite andrebbe messo lo stesso in quanto inderogabile. Si potrebbe anche magari divenire una soluzione di concedere qualche deroga a dei camion, per esempio più pesanti del solito, incassando un canone annuale dove la provincia potrebbe incamerarlo e spenderlo addirittura dove fossero presenti dei danni subiti da questi mezzi.